Salve a tutti! Iniziamo oggi un nuovo progetto che riguarderà la realizzazione di un circuito di sicurezza in corrente. Quindi, di che cos'è che stiamo parlando? Come si induisce già dal nome, in pratica questo dispositivo viene interconnesso su uno dei due rami di alimentazione fra l'alimentatore e il dispositivo che si trova sotto test, quindi magari una scheda o un prototipo che sto realizzando. E questo dispositivo viene attraversato dalla corrente che circola nel circuito e attraverso un sensing che viene effettuato con una resistenza di shunt, lui va a misurare il valore di questa corrente e quindi, così come un amperometro, diciamo che lui va ad effettuare una sorta di controllo. Le protezioni principali che dovrà garantire questo circuito sono tre e partendo dalla prima abbiamo che deve garantire una protezione da sovracorrente, quindi per esempio se il circuito che sto testando non assorbe più di 2 ampere, imposto il valore massimo del circuito di sicurezza a 2 ampere e quando viene superato quel valore il circuito stacca, quindi apre la maglia e non fa più circolare corrente nel circuito. La seconda protezione riguarda invece le variazioni di carico, quindi se ad esempio il dispositivo in un determinato istante sta assorbendo 1 ampere e poi successivamente all'improvviso ne assorbe 2, quello che deve fare il circuito di sicurezza è aprire nuovamente la maglia, quindi non consentire più il passaggio di corrente in quanto questo tipo di evento è da considerarsi pericoloso. Infatti se si sta lavorando a punto fisso non si ci aspetta che la corrente vari improvvisamente, quindi quello che probabilmente è successo in questo tipo di eventi è che qualche attivo si è rotto oppure che è successo qualche danno su scheda e quindi per limitare i danni conviene sempre staccare l'alimentazione. La terza protezione riguarda invece il cortocircuito. Quindi ad esempio quando si testa una scheda succede un evento distruttivo che va a rompere degli attivi, quindi l'alimentazione viene cortocircuitata e quello che succede è che in questo caso è consentito il passaggio di elevati valori di corrente che potrebbero rompere ulteriormente il circuito su cui si sta lavorando, ma comunque è una situazione pericolosa per l'operatore. Quindi quando si verifica questo genere di evento il circuito di sicurezza deve essere in grado di avvertirlo e di intervenire prontamente in modo da staccare l'alimentazione. Le caratteristiche principali del circuito di sicurezza in corrente saranno che potrà lavorare fino a una tensione massima di 400 volt, potrà consentire il passaggio e quindi effettuare un sensing corretto di una corrente massima fino a 5 ampere, ma soprattutto deve avere un tempo di azione, quindi nel momento in cui si accorge che nel circuito c'è qualcosa che non va e nel momento in cui stacca l'alimentazione non deve passare un tempo superiore a 50 microsecondi. Ovviamente questo è un tempo estremamente piccolo se comparato con altri tempi di intervento come ad esempio gli interruttori di protezione che abbiamo dentro le nostre case, infatti lì si parla di tempi di circa 20-40 millisecondi, quindi se rapportati nella stessa unità di misura stiamo parlando di 20 mila microsecondi e 40 mila microsecondi, quindi questo tempo è terribilmente piccolo. Però in realtà dopo alcune considerazioni e qualche calcolo questo tempo risulta a malapena sufficiente per limitare i danni da eventuali cortocircuiti. Infatti è vero che nella mentalità comune si considera pericolosa la tensione, ma in realtà quella che fa i danni è la corrente, quindi minore è il tempo in cui elevate correnti circolano nel circuito e minore saranno i danni riportati. Quindi immaginandosi di avere un cortocircuito in un dispositivo dove ci sono dei condensatori carichi a 400 volt, un tempo di 50 microsecondi è il minimo necessario per evitare che ci siano delle vere e proprie esplosioni su scheda. Per quanto riguarda i prossimi video sarà analizzato lo schematico e il layout sulla PCB di questo circuito di sicurezza in corrente e poi si farà un video dove ci sarà il test di questo circuito, quindi verranno testate tutte queste protezioni. Molto bene, per il momento quindi è tutto, alla prossima!